Mi chiamo Dania, sono una biologa e da 5 anni ho un contratto di ricerca finanziato da Siena Ail. Mi occupo di studiare le alterazioni dei cromosomi nelle leucemie, nei linfomi e nel mieloma. Queste indagini sono indispensabili per completare la diagnosi e soprattutto per fornire al paziente una corretta prognosi. Grazie al contratto di Siena Ail sto completando la mia formazione con la scuola di specializzazione in patologia e biochimica clinica, poiché per i biologi non sono previste borse di studio. Mi chiamo Ilaria, sono laureata in biotecnologie mediche e frequento il terzo anno del dottorato di ricerca Genomec cofinanziato da Siena Ail. La mia non è solo attività di ricerca e questo per me è un valore aggiunto. Infatti mi occupo di studiare le mutazioni geniche nelle cellule delle leucemie acute, grazie alle quali possiamo offrire ai pazienti un'ematologia di precisione e terapie personalizzate. A breve concluderò il mio dottorato con uno stage di approfondimento all'estero. Sono Anna e sono una biologa ricercatrice junior. Anche il mio contratto è stato cofinanziato da Siena Ail. La mia attività di ricerca riguarda lo studio delle cellule staminali leucemiche, in particolare nella leucemia mieloide cronica. Queste cellule sopravvivono anche alle terapie più mirate e comprenderne le caratteristiche è indispensabile per puntare alla guarigione di questa malattia. Ciao, sono Corrado. Sono un medico e mi sono specializzato in ematologia a Siena. Grazie al sostegno di Siena Ail, da maggio sono a New York per integrare il mio dottorato con uno stage di un anno al Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Qui mi dedico allo studio di una terapia cellulare innovativa, solo recentemente approvata in Italia, che fa uso dei linfociti con recettore chimerico chiamati CAR-T per il trattamento di leucemia e linfomi in fasi avanzate. Proprio ieri ho saputo che uno dei miei progetti sarà finanziato dall'AIRC. ma Siena Ail non è solo questo. Ha a cuore il comfort e il benessere dei pazienti ematologici e grazie all'iniziativa della raccolta fondi pazienti al centro, che si è svolta in primavera, ha potuto fornire l'arredamento del nuovo day hospital in modo da rendere più confortevole un momento critico come quello della chemioterapia. Inoltre Siena Ail si occupa di supportare i pazienti e le loro famiglie, ospitando gratuitamente coloro che ne hanno bisogno presso Casa Ail il Bucaneve. La casa è a disposizione dei malati dal 2004. Ogni anno vengono accolti circa un centinaio di pazienti familiari per il tempo necessario a svolgere il loro percorso terapeutico. I nostri volontari fanno tanto per sostenere i nostri progetti. Fallo anche tu con una donazione o dedicandoci un po' del tuo tempo. Combattiamo insieme le malattie del sangue. Tutti insieme possiamo vincere. Grazie.